Perché è adorabile, è adorabile, è veramente buonissimo, merita, la compagnia è bellissima, quindi cosa volere di più? Perché è la zona qui del broccoletto classico di Verona. Perché il broccoletto di Custoza è splendido, buono, saporito e croccante. Grande festa a Custoza per celebrare il prodotto tipico per eccellenza, il broccoletto, che quest'anno è diventato anche presidio slow food. È una grande soddisfazione far parte della famiglia Slow Food che ci riconosce con questo broccoletto prodotto nella nostra terra come una cosa da tutelare e da salvaguardare proprio. Soprattutto perché sono solamente otto produttori e sono molto uniti e hanno lavorato, è stata veramente dura, perché comunque alla fine in un'associazione ci sono idee differenti, però l'idea principale era far conoscere il prodotto e comunque conservarlo. E questo ci sono riusciti attraverso comunque il riconoscimento del presidio di quest'anno. Ricco di sostanze antiossidanti, zuccheri, vitamine, aiuta a rafforzare le difese immunitarie. Il broccoletto di Custoza si distingue per il sapore antico e la passione dei produttori che lo coltivano. Un trend è sempre in crescita è stato. Dopo un inizio un attimo difficoltoso abbiamo trattato la forza e il coraggio per andare avanti. Abbiamo raggiunto dei grandissimi risultati, delle grandi vittorie e grandi mete. E siamo arrivati fino a qua. Avete visto ben l'affluenza di persone che c'è già dalla prima sera, quindi un bellissimo risultato. Una ricca proposta gastronomica, partiamo dal risotto con il monte veronese e ovviamente il broccoletto di Custoza, con una pasta fresca, sardella di lago e il broccoletto di Custoza, un raviolo ripieno al broccoletto, un gnocchetto al broccoletto, un broccoletto fritto e tutto abbinato a un vino Custoza eccezionale. Per maggiori informazioni visitate il sito www.broccolettodicustoza.it Lo stand gastronomico vi aspetta a pranzo e a cena.